Saluto a tutti gli intervenuti da parte mia a nome del corso di laurea di un'esprudenza. A me corre semplicemente l'obbligo di dire una parola di ringraziamento. Allora, dicevo che corre a me l'obbligo di dire una parola di ringraziamento davvero sentita innanzitutto al professor Gambino e all'avvocato Baldacci che hanno voluto questo incontro di questo pomeriggio. All'avvocato Baldacci ancora una volta per il contributo decisivo nell'organizzazione e nella riuscita dell'evento. a tutti gli intervenuti che saranno relatori in questo pomeriggio e che ci raggiungeranno nel corso del pomeriggio. E poi volevo anche dire che questo è un evento al quale teniamo in maniera particolare perché ci consente di dare corpo, di sostanziare alla collaborazione che ormai da diverso tempo come corso di laurea in giurisprudenza e più in generale come università europea grazie all'impegno del nostro prorettore, del professor Gambino stiamo portando avanti con il mondo dello sport in generale attraverso tante iniziative in particolare credo che il professor Gambino ci parlerà della rivista di diritto sportivo. è un mondo molto importante anche come possibilità di riuscita professionale per i nostri laureati perché crediamo di ascoltare proprio questo anche dalle relazioni di questo pomeriggio ci sono tante possibilità interessanti di crescita professionale nel mondo dello sport. Dunque io ancora una volta ringrazio tutti, a tutti do il benvenuto e da ultimo mi chiedo semplicemente scusa perché poi per altri impegni accademici di questo pomeriggio sarò costretto ad allontanarli e a questo punto non mi rimane che lasciare la parola a questo subito.